Sono Rita Cannata, sono un consulente di Skillab e con grande piacere oggi ho concluso, ma con grande piacere per la qualità e il livello di partecipazione, il modulo sulla gestione del team e l'importanza del team nel percorso dell'innovation management. Il gruppo ha risposto in modo molto positivo a questa metodologia che ha idealmente chiuso il percorso essendo iniziato con un percorso di creatività e che si conclude con un percorso di creatività. Ancora grazie a tutti i partecipanti e a Skillab per la grande opportunità che mi è stata offerta.